Ho sempre detto che avrei amministrato la mia giunta ascoltando anche i consigli e suggerimenti che le persone ci possono dare. In questo caso però dal mio punto di vista non sono motivato, almeno in parte ovviamente, perché abbiamo detto sin da subito che non voglio fare parcheggi in aree dove bisogna tagliare gli alberi perché ritengo che gli alberi siano importanti per la vita di tutti noi. Anzi, in questi cinque anni vedrete che aumenteranno il numero degli alberi che andremo a piantare, ovviamente anche nelle zone urbane della città. Dall'altra parte fare parcheggi interrati, oltre ad essere troppo costosi, e ricordo sempre che quando l'amministrazione fa un investimento chi paga sono i cittadini, quindi dal mio punto di vista sto cercando di evitare di fare parcheggi interrati, primo perché costano molto, secondo in qualsiasi zona lo facciamo, in qualche modo gli alberi bisogna rimuoverli, terzo perché Pesero è una città dove appena scavi viene fuori un resto archeologico importante e quindi pensare di fare parcheggi interrati è praticamente sbagliato. Io ritengo che dobbiamo fare o ampliamenti delle aree a raso oppure bisogna fare dei parcheggi super elevati. Vengono fatti in tutto il mondo, non capisco perché a Pesero non si possono fare parcheggi sopra elevati, molto spesso i parcheggi non per forza sono strutture pubbliche, brutte, ma anche che possono invece riqualificare i territori dove vengono inseriti, ma ho posto un problema, noi pensiamo sempre ai parcheggi come un'occasione per le persone che devono venire a lavorare nella zona centrale o che vengono a fare gli acquisti nella zona centrale. Sicuramente servono sia per chi viene a fare acquisti sia per chi viene a lavorare, ma ricordo che i parcheggi servono anche per chi vive nella zona del centro. Oggi tutte le vie del centro sono affogate dalle auto, le auto sono diventate tantissime perché negli ultimi 20 anni si sono fatti tutti gli interventi di ristrutturazione che hanno previsto l'aumento degli appartamenti. Con l'aumento degli appartamenti quasi nessuno ha dato i posti auto perché se no non avremmo potuto realizzare tutti questi, come dire, riqualificare gli immobili e quindi i posti auto privati non sono stati realizzati. Nessun privato fa un investimento per realizzare dei posti auto, lo può fare solamente il pubblico perché ovviamente rientra dell'investimento in 30-40 anni ed è per questo che ritengo che sia giunta l'ora di fare anche dei parcheggi di struttura per liberare il nostro centro storico anche dalle troppe auto che ci sono tutti i giorni.